Il sistema industriale nella città di Salerno è completamente saltato, occorre superare le divisioni e i provincialismi investendo nel migliore dei modi i fondi a disposizione per la provincia, nell'ambito di quelli campani 14 miliardi, tra finanziamenti europei e risorse, le agenzie nazionali come ANAS e Ferrovie, un ultimo treno da non perdere. A Dino, il presidente della giunta regionale De Luca è intervenuto all'insediamento del nuovo consiglio della Camera di Commercio, ha delineato lo scenario attuale e futuro del sistema produttivo campano e Salernitano in particolare, rivendicando con orgoglio di impegnarsi per portare fondi alla sua provincia nel rispetto delle norme, oltre che per riequilibrare, ha aggiunto, disattenzioni pluriennali. Stiamo semplicemente recuperando distrazioni pluridecennarie, quindi non ho nessun imbarazzo, anzi, sono orgoglioso di fare arrivare risorse nella provincia di Salernitano. Il Salernitano per il governatore, che ha anche esortato gli imprenditori a votare sì al referendum, parte svantaggiato sul piano dell'industria rispetto agli altri territori campani e quindi dovrà impegnarsi maggiormente, ripartendo dai punti qualificanti, soprattutto in provincia, tra Costiera Amalfitana per il turismo, agroindustria, nella Piana del Sele, con alcune eccellenze nell'elettronica. La regione, ha aggiunto, si impegnerà per il nuovo testo unico del commercio, per la legge sul turismo e per i consorzi asi delle aree industriali, che, ha annunciato, scompariranno, andando a confluire in una entità unica per tutta la campania. Tra i progetti da portare avanti, il prolungamento della metropolitana fino a Battipaglia, il raddoppio della Salernovellino, il potenziamento dell'alta velocità a sud, punto centrale del rilancio, però l'aeroporto Costa d'Amalfi, indispensabile per l'intera regione. Per De Luca il vero problema non è nei finanziamenti, che, come detto a Telecolore dal presidente della Commissione Trasporti Cascune, saranno anticipati dalla regione Campania, ma nella concessione definitiva per lo scalo. Quando parlate con me, non parlate in termini di anni, parlate in termini di minuti. Il problema vero che abbiamo è farci dare la concessione, che non abbiamo ancora, incredibilmente. Cioè, l'ultimo passaggio con il Ministero dell'Economia non è completato. Una volta avuta la concessione, poi bruceremo i tempi. Non ci sono problemi finanziari. La legge prevede ovviamente lo sblocco di quei 40 milioni nel 2018, ma abbiamo la possibilità e, come dire, anche la volontà politica per anticipare questo finanziamento. Se abbiamo un progetto esecutivo pronto, i soldi li troveremo. Questa è una infrastruttura decisiva. Se dobbiamo far decolare il turismo nel Cilento, è indispensabile questa infrastruttura, così come è indispensabile un salto di qualità. Nell'organizzazione turistica non possiamo presentarci sulla scena mondiale, così come siamo oggi. Allora, le opportunità ci sono. Dobbiamo migliorare l'organizzazione, dotarci delle infrastrutture, dopodiché possiamo guardare con fiducia al futuro.